Sono sporchi e danneggiati, nella migliore delle ipotesi, se non sono una, sono l'altra cosa. Gli spazi verdi attrezzati del popoloso quartiere di Centinarola non se la passano molto bene. A richiamare la nostra attenzione su questi luoghi, come sempre, le segnalazioni di chi li frequenta, come quello nascosto tra le case in via Brigata Messina 79, che si presenta sì pulito, ma con le strutture che ormai mostrano in tutta la loro evidenza il trascorrere del tempo, che in alcuni casi li ha resi inutilizzabili, se non pericolosi, come l'altalena di copertoni o il quadrato di funi e la canadese di legno con le assi mancanti. Poi ci spostiamo in quello che, dove ogni estate si tiene la frequentatissima festa della solidarietà, ormai quasi alle porte. Qui, alle nostre telecamere, però, si presenta una situazione, oltre che di scarso senso civico e pulizia da parte di chi lo frequenta, anche di estremo pericolo. Se una mamma questa mattina avesse lasciato libero di scorazzare nel verde il proprio bambino, come in realtà dovrebbe avvenire in posti simili, avrebbe potuto seriamente passare brutti momenti, perché il piccolo infante avrebbe potuto facilmente farsi male in uno dei pericolosissimi cocci di bottiglia di birra, rotti ed appuntiti e molto taglienti, lasciati oltre che proprio sotto i giochi, anche sul prato liberamente dagli incoscienti e spregiudicati frequentatori. Uno dei cocci, poi di colore verde, si mimetizzava tranquillamente col manto erboso. Un piede sopra, con le ciabattine estive, o ancor peggio un accidentale caduta sopra, avrebbe esiti drammatici. Ora, per fortuna, questi cocci sono stati messi nel contenitore del vetro, che è lì a pochi passi da dove gli amanti delle bevute si accampano, come mostrano gli ormai consueti ed inequivocabili segni lasciati per terra. Mozziconi di sigarette, cartine, filtri, buste di tabacco, oltre che svariate bottiglie di plastica e cartacce di vari alimenti. Ma le tracce del passaggio dell'allegra e caffona combricola in questi parchetti per bambini, questa volta non si limita all'immondizia orgogliosamente lasciata lì ai posteri. Questa volta sappiamo qual è il loro passatempo preferito, che deve essere una sorta di marchio di fabbrica che accomuna questi gruppetti di annoiati ragazzotti sfacendati. Anche qui va di moda lo smembra bici. Si prende una bici qualsiasi, anche legata con il lucchetto, la si porta nella tana e la si demolisce, la si sbrindella e la si sparpaglia a pezzetti in tutta l'area. E' ciò che rimane della sfortunata bici ridotta come se ci fosse passato sopra uno schiacciassassi in un desolato cespuglio. Complimenti, un bel modo per passare il vostro tempo ma soprattutto un modo chiaro ed inequivocabile a tutti per qualificarvi.